La Yaris che non c'era. La nuova Toyota Yaris Cross apre un nuovo capitolo nella storia del piccolo genio giapponese. Per la prima volta arriva in gamma un Bisuv che però è il DNA della vettura più popolare del brand. Il look della nuova Toyota Yaris Cross riprende molte caratteristiche della sorella berlina ma le reinterpreta in chiave SUV, fiancate scolpite, linea di cintura alta, passaruota incorniciati da una fascia di plastica nera e un'altezza dal suolo evidente. Anche gli interni della nuova Toyota Yaris Cross sono mutuati da quelli della sorella. La caratteristica principale però è lo spazio con un bagagliaio da 397 litri e di capacità che possono arrivare a 1097 litri abbattendo i sedili posteriori. TNGiB, ovvero Toyota New Global Architecture. Parliamo della piattaforma di ultima generazione pensata per le auto di segmento OB che ha permesso ai progettisti giapponesi di aumentare la rigidità della scocca migliorando guidabilità e comfort. Il sistema ibrido della nuova Toyota Yaris Cross è composto da un motore a ciclo Atkinson 1.5, tre cilindri benzina da 92 CV e un motore elettrico da 59 kW che insieme erogano 116 CV di potenza. La batteria agli ioni di litio ha una capacità inferiore a 1 kW perciò si ricarica velocemente e visto che si tratta di una full hybrid lo fa autonomamente sfruttando decelerazioni, frenate e i rilasci oppure il surplus di potenza del motore termico. Un allestimento per ogni esigenza, la Yaris Cross arriva sul mercato con tre diverse ma tutte decisamente ricche versioni, la entry level active, la sportiva trend e la premium lounge. La strumentazione è digitale per una maggiore chiarezza visiva e l'impianto tecnologico si completa di un sistema di infotainment con schermo da 8 o 9 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Gli ADAS e della nuova Toyota Yaris Cross 2022 evidenziano una grande attenzione per la sicurezza. Un esempio? L'airbag posizionato tra i due sedili anteriori, pensato per evitare che i passeggeri urtino tra di loro in caso di incidente. L'arrivo della nuova Toyota Yaris Cross allarga la famiglia della Toyota Yaris unendosi alla Berlina e alla GR, la sportiva ad alte prestazioni. Il listino della nuova Toyota Yaris Cross parte da 25.400 euro ma Toyota ha proposto un'offerta di lancio a partire da 22.650 euro in caso di permuta o rottamazione. Lanciata ufficialmente a settembre ma presentata già in occasione dell'ultimo giro d'Italia, la Toyota Yaris Cross è già in concessionaria. Grazie a tutti. Grazie a tutti.